Ciao a tutti ragazzi qua Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Oggi ragazzi volevo ringraziarvi perché praticamente nello scorso video, quello dell'ultima missione del casino In tantissimi avete commentato dicendomi che la Baker praticamente mi ha regalato un'auto che si trova al porto Con un punto interrogativo, io ho guardato ragazzi ed effettivamente qui c'è un punto interrogativo E volevo ringraziarvi perché insomma io penso che me ne sarei ragazzi accorto dopo un po' Anche perché adesso entrando su GT Online mi è comparso diciamo in alto a sinistra una specie di consiglio Dove appunto mi diceva che al porto la Baker mi ha lasciato un regalo Però comunque volevo ringraziarvi ragazzi perché veramente nello scorso video in tantissimi mi avete scritto che c'era questo regalo qui Quindi volevo ringraziarvi, penso che alla fine dopo un po' di tempo ci sarei andato per curiosità a vedere questo regalo Però giustamente è stato molto ma molto meglio avere i commenti da parte vostra che subito mi avete informato di questa cosa qui Allora stiamo andando ragazzi a prendere a quanto pare quest'auto Insomma mi avete detto che ho un'auto quindi a meno che non mi avete trollato tutti Penso che ci sia un'auto e se c'è veramente l'auto la andremo ovviamente a modificare e soprattutto a vedere che auto è Perché io volevo comprare qualche auto del nuovo DLC però non lo so ero un po' indeciso Ce n'era una che volevo comprare spero sia ragazzi questa qui misteriosa Allora ci stiamo andando ovviamente con l'Oppressor Vediamo un po' comunque le missioni ragazzi del casino sono effettivamente finite Mi è piaciuta moltissimo questa mini storia del casino Allora mi sa che siamo arrivati Si ragazzi Allora il punto interrogativo è qui e questa è l'auto Bellissimo E devo dire che era questa l'auto che volevo comprare Ok allora scendiamo subito dalla moto E saliamo ragazzi su quest'auto qui Ok perfetto Ah seleziona proprietà Ok quindi la devo spedire da qualche parte Eeeh dovrei avere il garage del casino si Garage dell'attico di lusso del casino Perfetto ragazzi Auto accesa l'abbiamo spedita Cioè vabbè spedita l'abbiamo salvata perché l'auto è qua Eeeh dovrebbe essere da quello che vedo blindata Andiamo in prima persona Bellissimo ragazzi si io quest'auto la volevo comprare Era un po' indietro Ah è armata Ok ok allora Prendiamo la mitragliatrice Ok Ah è un'auto Ok ragazzi è un'auto armata Non pensavo assolutamente Fosse armata Comunque si sente che è molto ma molto pesante E vabbè andiamo subito da lusentos custom adesso a modificarla Eeeh E niente vediamo un po' ragazzi cosa possiamo fare Non so se si può modificare da Benny Non ne ho idea ragazzi Adesso andremo a vedere Andremo a vedere il tutto Sicuramente non si può fare Però per sicurezza vado Vado anche da Benny Così Magari ragazzi non so Ci sono modifiche particolari Che si possono fare Non voglio perdermi nulla Quindi per sicurezza Io vado lì Comunque come vi stavo dicendo prima Questo DLC ragazzi Mi è piaciuto veramente tantissimo Per quanto riguarda Eeeh vabbè tutto mi è piaciuto Eeeh questa mini storia E' stata interessante Eeeh avrei voluto durasse un pochettino di più Sinceramente Però alla fine comunque ci sta E' una mini storia online Quindi bellissimo E allora qui siamo arrivati da Benny Vediamo se Si può modificare l'auto Ok non può essere modificato Va benissimo Allora andiamo direttamente Dal nostro lusentos custom Ragazzi di fiducia Cioè ormai Ormai Quello lì è il mio Lusentos custom preferito Ci modifico tutti i veicoli Anche se poi c'è quello Dell'ufficio personalizzato Però vabbè Andiamo comunque sia lì Eeeh Quindi questo DLC ragazzi Mi è piaciuto veramente tanto L'unica cosa negativa Che purtroppo devo dire È negativa È che Le puntate nel casino Secondo me sono un po' Un pochino Un pochino limitate E poi non so se sapete Ma in alcuni paesi Alcuni contenuti Del DLC Come giocare d'azzardo Eccetera Non sono accessibili Infatti c'era un botto Di gente Che si lamentava Ragazzi Nei commenti Dei trailer Della Rockstar Mi dispiace per loro Però Vabbè che poi Non è che sia così Difficile accedere Si possono fare Dei cambiamenti Della connessione Però Noi in Italia Sto problema Non ce l'abbiamo Quindi A noi ci interessa poco Allora Siamo entrati Allo santos custom Ripariamo l'auto Armature Al massimo C'è già Ok Freni Freni niente ragazzi Mettiamo questi qua da gara Immaginate se l'auto Era già personalizzata Era veramente un bel regalo Allora Paraurti anteriore Che poi dobbiamo vedere Anche il prezzo Alla fine Perché non mi ricordo Quanto costava Però modifichiamo Quest'auto Allora Che paraurti Possiamo mettere Ragazzi Ma Non lo so Vabbè Facciamo GT In carbonio Non ho idea Di che colore Fare quest'auto Mettiamo questo qui In carbonio Perché comunque Non cambia nulla Con i colori Cioè Non cambia il paraurti Cambia soltanto il colore Quindi mettiamo in carbonio Poi andiamo su motori Mettiamo ovviamente Al massimo Marmitte Punte in titanio Acceleriamo un po' Ok Belle marmitte Non saprei Queste qui Mi piacciono molto Però Ci sono anche queste cromate Ragazzi Che sono molto belle Mettiamo queste da gara Sì dai Mettiamo queste qui da gara Poi esplosivi No vabbè Non mi interessano Griglie Griglia cromata Questo qui Intercooler Rally Da corsa Uh Qui ci sono delle ventole Ok ragazzi Anche se Non mi piacciono tanto Però vediamo Cosa potrei scegliere Sinceramente Questo qui ragazzi Con la griglia cromata Mi piace moltissimo E a questo punto A questo punto Andiamo a mettere Le marmitte Pure cromate Così facciamo Una mini Mini abbinamento Cofani Vediamo un po' Cosa abbiamo qua Ok Vabbè Le solite Le solite cose Ragazzi Questo qui Molto bello E praticamente C'è una parte In carbonio E l'altra no Questo è tutto In carbonio Vabbè Poi c'è la classica Presa d'aria Insomma Di quest'auto Quindi Direi di Mettere Ma si Facciamolo Facciamolo in carbonio Ragazzi E con Col cofani In carbonio Secondo me Ci starebbe Benissimo Ma veramente Tanto bene L'auto Tutta bianca Però Adesso vedremo Un po' Cofani Andiamo sul loop Cioè Cofani E claxon Ho sbagliato Ragazzi Mettiamo Mettiamo Questo qua Di liberty city Bellissimo Io penso Che nelle modifiche Delle auto Non ho mai messo I claxon Nei video Però Questa volta Si Allora Fare Alloxeno Schiamaneon Al massimo Colore Il colore Lo vediamo dopo Come al solito Livrea Ok Allora possiamo giocare Anche con le livree Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ragazzi Questa è fantastica Bella questa Queste sono un po' Da corsa Effettivamente Si si Sono un po' Da corsa Lavoro duro Questa qui è bellissima Adesso andiamo a cambiare Colore Ragazzi La mettiamo bianca L'auto E vediamo un po' Questa è pure Bellissima Però sempre Tipo da corsa Quest'altra è pure Fantastica Va bene Allora Cambiamo subito La verniciatura Ragazzi dell'auto Colore principale Andiamo su Metallizzati E mettiamo un bel Bianco Bianconevo Ghiaccio Facciamo Facciamo ghiaccio E vediamo un attimo Sta situazione qua Anzi il colore Secondario qual è Perché dovrebbero Cambiare Un po' Di cose No Cambiano Gli specchietti E basta Perché poi ho messo Tutte le altre cose In carbonio Vabbè Quindi gli specchietti Per me Li possiamo mettere Tranquillamente Nero carbonio Ci sta Vediamo di nuovo Le livree Eccole qui Allora Allora Questa era Veramente eccezionale E a me ragazzi Piace Piace tantissimo Questa Poi L'altra Bellissima Era questa Qui Esatto Questa è Veramente Veramente Molto bella Anche se Non so Col nero Eppure bellissimo Perché la vedi E non la vedi Col nero carbonio Però col bianco Ovviamente È qualcosa Di eccezionale E poi abbiamo Queste qui Che si vedono Nella parte nera Perché la livreea È bianca E quindi sarebbe pure Bellissimo Perché Da una parte Li vedi Da una parte No E ragazzi Purtroppo Queste personalizzazioni Sono Sono difficili Da fare Perché Ci sono tante cose belle Questa qui Io la metterei Al 100% E mi sa che la metto Allora io intanto La metto Ragazzi Questa Poi Poi qui C'è una grandissima Indecisione Perché La livreea Qua è soltanto Credo Nella parte Superiore O forse no 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 È in tutta In tutta la macchina Però principalmente Nella parte superiore Ok Eppure è bella Questa Però Non lo so Ragazzi Voglio fare un'altra cosa Tanto i soldi da spendere Li abbiamo Voglio provare Un'altra cosa Ragazzi Se io vado a mettere La verniciatura Del colore principale In Classici Aspettate un attimo Dove era Metallici Ecco qui Mettiamo oro puro Oro satinato Adesso andiamo a vedere Perché Se io compro la livreea L'altra Esattamente Quale Ho questa Vabbè si Proviamo prima con questa Con il colore oro Dovrebbe essere Qualcosa di fantastico Infatti ragazzi Guardate qui Almeno a me piace Tantissimo Io direi Oro puro Più che oro Satinato Mettiamo oro puro Poi Andiamo a vedere Adesso le altre Livree Allora Questa qui Ragazzi È bellissima Poi c'è questa Che è pure molto bella E questa qui Che prende tutta l'auto E a questo punto Sono Sono veramente Indeciso Io su Questa qui Non ci sta molto Perché già È sul giallo Oro Diciamo la La livreea stessa Io ragazzi Sono indeciso Con questa Livreea qui Però O con l'auto Bianca O con l'auto Color oro E questo è Diciamo Questo è un po' È un po' Ragazzi L'indecisione Cambiamo un attimo Il cofano anteriore Sta personalizzazione Dell'auto Durerà tantissimo Ragazzi Però a me piace Fare le auto Fantastiche Cambiamo un attimo Il cofano Ok Guardate qui Ragazzi Mamma mia Quest'auto È eccezionale Quest'auto È eccezionale E mi sa che la metto oro Anche perché Auto in oro Ragazzi Ne ho due Ho la Wagner E Il dubsta Quindi direi Di fare Questa personalizzazione Qui Vediamo un attimo La bella presa D'ore È già bella Quindi c'è Tutta Tutta l'auto In oro Da rivedere Anche un attimo Il paraurti Anteriore Adesso E poi abbiamo Tutta la parte Diciamo Inferiore In carbonio Che poi Quello che sto vedendo È che il colore Secondario È tipo un nero Un nero oro lucido Non lo so Allora Qui abbiamo Questa presa D'aria Così E poi E poi qui Abbiamo Il cofano Così ragazzi Vabbè Io direi Di Io direi Di mettere Questa ragazzi Metto Metto questo Qui Cofano Da corsa Abbiamo La livrea Che si vede Perfettamente Tutto fantastico Devo Devo Soltanto Andare A vedere Adesso Il colore Secondario Un attimo Perché c'è qualcosa Che non mi Quadra Non so che colore Ci sia Nero carbonio Va bene E Vabbè Gli specchietti Li lasciamo Sul nero carbonio Che diventa Tipo un nero Lucido Oro lucido Nero oro lucido Non lo so Stranissimo Andiamo a rivedere Un attimo Adesso I paraurti Io direi Di mettere Questo ragazzi Che è un po' Mischiato Con il carbonio E oro Ok lo mettiamo E poi il posteriore Invece No il posteriore Lo lasciamo Lo lasciamo Nero carbonio Ok perfetto ragazzi Va bene Questa parte Di modifiche È andata Confermato Gabbia di sicurezza Direi di no Direi di no Ragazzi Gabbia di sicurezza Sto facendo Un'auto Veramente Lussuosa Sì È comunque Sportiva Però la gabbia di sicurezza Io sinceramente Non ce la vedo No no Non la metto Non mi piace per niente Colore secondario Il tettuccio No 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 Potevamo fare Pure tutto in carbonio Col cofano Il tettuccio Però no Ragazzi Lascio standard Ho scelto questa Questo stile Diciamo Come dire Classico Sportivo Classico Senza esagerare Troppo Mi piace Tantissimo Minicon Standard Vabbè Li mettiamo in carbonio Sì 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 Li mettiamo in carbonio Perché Le altre parti Sono in carbonio Dell'auto sotto Spoiler Allora abbiamo Allora abbiamo Alettone sportivo GT basso Alettone da gara Alettone resistente Va bene Allora mettiamo Quale mettiamo ragazzi E qua sono indeciso Perché Prima ho detto Che la voglio fare Sportiva Ma Comunque Si è elegante Però come faccio Così non lo so Non lo so Alettone da gara Alettone resistente Vabbè mettiamo Io la lascerei pure senza Ragazzi Vi dico la verità Alettone sportivo Ho deciso che Non metto nessuno spoiler Perché In ogni macchina Ragazzi Che ho personalizzato Ci ho messo sempre Lo spoiler E Sinceramente Tutte le auto Ormai sono Sono identiche Hanno sempre Tutte le stesse impostazioni Quindi questa qui Io la lascio In questo modo Ragazzi Senza spoiler Che mi piace Veramente molto Ma molto di più Questo qui È l'unico Che metterei Vi dico la verità Però Non lo so Non lo so Io la lascio Senza spoiler Voglio fare Questa cosa qui Parasole No no Non lo mettiamo Perché sennò Non ha senso Si Sospensioni da gara Trasmissioni Da gara Turbo Personalizzato Ruote Ok Qui dobbiamo andare A mettere qualcosa Di veramente Lussuoso Giustamente E Cosa possiamo mettere Ragazzi Questi qui Sono tipo Perfetti Secondo me Poi Ci sono questi Che sono pure Molto belli Questi sono i carbon Sono Sono i miei preferiti Carbon inferno Questi sono molto buoni Perché sono in carbonio E vanno a richiamare Praticamente la parte Ragazzi Sotto dell'auto E Quindi questi O questi Metto questi qui Ragazzi Vai Il design Il design Delle gomme Non lo metto Io Sto facendo Ragazzi Praticamente Una personalizzazione Diversissima Dal solito Voglio rendere L'auto Sportiva Ma elegante Allo stesso tempo Quindi non voglio fare Tipo spoiler Ora Il design Nei pneumatici Non voglio fare Queste cose qui Perché secondo me Quest'auto È eccezionale Così Andarla a modificare Troppo Cioè Ci starebbe Però siccome Ho tutte le auto Super Iper personalizzate Voglio Voglio avere Questa qui Comunque un po' Differente E così Mi piace Veramente Veramente Tanto Finestrini Li mettiamo Molto oscurati Poi Dobbiamo andare A rivedere Un attimo I neon Dove sono i neon Ragazzi Qui nelle luci Kit neon Colore Qui direi Direi di mettere Sempre un qualcosa Sull'oro Pioggia dorata Anche se L'auto È già oro Però Potrei fare Il neon Bianco Anche il bianco Non sarebbe male Perché al buio Ragazzi Il bianco Praticamente Fa luce All'oro E sarebbe Bellissimo Sì ragazzi Dai Lascio il bianco Questa è veramente Stata la personalizzazione In tutti questi anni Di GTA online Più assurda Che io abbiamo Cioè più strana Più strana Perché Ho modificato l'auto In alcune parti In altre no Però sto vedendo Che gli sportelli Rimangono sempre Tipo Antiproiettile Quindi Insomma Questa cosa Sarebbe stata bella Poterla modificare Forse si poteva Modificare Ragazzi Nell'armatura Vediamo un attimo Per curiosità Io non la Non la modifico Però Niente Mi sa che Non si può fare Ci sono le targhe Ancora da modificare Ecco qui ragazzi Mettiamo X dexta Anche se La targa Per me La possiamo mettere Tranquillamente Nera Che ci sta Molto Molto Meglio Quindi Targa Nera Poi se volessimo Vendere l'auto Invece Ok L'auto Ragazzi Potremmo venderla A 172 Mila dollari Veramente Veramente poco Devo dire Vabbè usciamo Subito da Losantos Custom E niente Ho fatto ragazzi Una personalizzazione Assolutamente Diversa Diversa Ho voluto rendere L'auto Elegante E sportiva Allo stesso tempo Senza Diciamo Esagerare Con spoiler E altre cose Ovviamente Magari ci sarà Qualcuno Che dirà Che sono stato Un pazzo A non mettere Lo spoiler O le varie Insomma Scritte Nelle ruote Nelle gomme Però ragazzi A me piace così Ho voluto fare Un'auto Diverse Perché sennò Poi le auto Diventano tutte Uguali Anzi Già Per lo più Ne ho tante Che sono molto Simili tra di loro Quindi questa qui Almeno volevo Farla diversa E per me È spettacolare Cioè Mi piace Veramente tantissimo Comunque Vediamo un attimo Ragazzi Quanto costa Effettivamente quest'auto Perché io l'ho presa gratis Facendo Le missioni Però Quanto costa Allora l'auto È questa qui Enus Paragon R E costa 905.000 dollari Vabbè Io l'ho presa gratis Però Se costa 905.000 Come mai L'auto si può vendere Soltanto A 172.000 Forse perché Questa è un'auto Che mi hanno regalato Può essere Non lo so ragazzi Perché mi sembra Troppo poco Con tutte le modifiche Che abbiamo fatto Che la vendita Sia soltanto 172.000 Forse l'auto Se io avessi voluto Eh Dovevo provare Senza le modifiche Ragazzi Ad andare su Vendi auto E vedere Quanti soldi Mi dava Probabilmente Mi dava zero Forse io stavo vendendo Adesso soltanto Le modifiche Non lo so Non lo so Può essere Comunque l'auto È fantastica Andiamo adesso Nel garage Ragazzi Del casino Per andare a vedere L'auto Parcheggiata Perché Qui intanto Già ho distrutto Tutte cose Non ho ancora messo Nessun veicolo Lì dentro Quindi voglio un attimo Vedere Anche come viene Posizionata l'auto Dato che è la prima auto Che vado ad inserire Nel garage Del casino Comunque fatemi sapere voi Ragazzi Cosa ne pensate In generale Di quest'auto A parte Vabbè Le modifiche Che ho fatto io Proprio Dall'auto stessa È un po' strana È pesante È veloce Però si sente Che è pesante Comunque È bello A me piace Moltissimo Allora Siamo entrati Ok ragazzi Vabbè Questo è il garage Che già avevamo visto In un video E niente Qui abbiamo l'auto Dai Molto Molto bella Molto bella Credo che La userò Ragazzi Abbastanza In In missioni Dove magari O in momenti Dove non posso usare La mia oppressor Volante Utilizzerò Sicuramente Quest'auto Perché È molto bella Ragazzi Quindi spero Che vi sia piaciuto Questa è stata Una personalizzazione Veramente lunghissima Diversa dal solito Come vedete Ho fatto Veramente Un'auto Molto diversa E secondo me Ci sta Perché fare sempre Le stesse cose Le stesse modifiche Gli stessi spoiler Le stesse ruote Eccetera Arrivato a un certo punto Stanca Quindi penso che Variare un po' Sia una buona cosa Io spero che il video Vi sia piaciuto Qui è dexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Sia Ciao a tutti